Amici sportivi, amici fanta allenatori, buongiorno e bentrovati dal vostro veterano del fantacalcio. Un nuovo appuntamento con i 50 migliori talenti per il prossimo fantacalcio. Siamo arrivati alla puntata numero 15, quindi a larghe falcate arriviamo quasi verso la metà. Pronti, con questo parliamo oggi di Sabire, un giocatore che mi ha fatto molto emozionare nella seconda parte dell'anno, un giocatore che è arrivato dall'Ascoli ed è stato protagonista di una bellissima parte di stagione con la Sampdoria, quindi sono veramente molto contento di lui, molto contento di presentarvelo. Sabire Abdelhamid, il suo nome, giocatore tedesco, ha 25 anni, un classe 1996, è alto 1,86 e gioca con entrambi i piedi, quindi un'altezza importante per il calcio e per il fantacalcio. Sapete che è un giocatore che è ambidestro, ha buone possibilità di far bene, di far meglio rispetto agli compagni di gioco, rispetto agli avversari, perché chiaramente riesce a sbilanciare e può mettere in condizioni di disagio i propri avversari, quindi per questo motivo l'ambidestro è sempre molto ambito e molto attenzionato dai fanta allenatori. Numero di maglia, numero 11, valore di mercato 2,2 milioni di euro, arriva dall'Ascoli. Rating Sofa Score per lui, è un rating importante negli ultimi 12 mesi, supera il 7, infatti a 7,09, la punta minima è stata fatta a dicembre con un 6,8, la punta massima a marzo con un 7,6, quindi giocatore di grande, grande, grande interesse. Anche con il rating di Magic Goal e del veterano ha un rating molto alto, infatti anche la sua fanta media a voto è pari a 6,8, quindi giocatore interessantissimo. Ha un rating di serie B, quindi per tutta la carriera in serie B, pari a 7,05, ha un rating invece per la serie A, complessivamente, pari a 7,12. Con la Samp finora ha fatto 13 presenze, ha fatto 3 gol, 2 assist, solamente 2 ammunizioni, ha giocato titolare per il 57% delle volte e ha partecipato al gol per il 29% delle volte, quindi veramente oltre un quarto di partecipazione al gol è tantissimo, ha un diritto di riscatto che lo può portare fino a giugno 2023 con la Sanduari, quindi sicuramente la Sanduari lo riscatterà perché è un giocatore veramente importante, può essere anche oggetto di calcio mercato. Una notizia che ha fatto un po' clamore, diciamo così, fuori dalle righe è la storia che ha avuto Sabiri con una nonna del suo palazzo dopo il derby di Genova e una, come dicevo, Sabiri è una delle notte più liete della Sanduari, è arrivato alla Samp dall'Ascoli durante il mercato invernale, ci ha messo ben poco per entrare nei meccanismi di Giampaolo e come dicevo in 13 partite è andato a segno tre volte con due assist, soprattutto un giungolo importante, è stato quello siglato nella stracittadina con il Genoa che di fatto ha condannato il Genoa alla Serie B e questo è anche l'oggetto della copertina che vedete qua, quindi mostra sotto la curva genovana il simbolo dello scudetto della Sampdoria. La rete in stracittadina ha dunque permesso di entrare nel cuore dei tifosi blu gerghiati definitivamente, ma c'è una persona che è stata davvero importante per Sabiri, si tratta della signora Franca Giovene, anni 85, che ha ancora tanta passione per la Sampdoria e abita nello stesso quartiere Arbaro di Genova dove appunto Sabiri abita nel condominio e di fatto lo ha adottato come nonna per questi mesi. La strana coppia è diventata famosa dopo un video girato dopo il derby con i due che festeggiano insieme, abbracciati a raccontare il loro rapporto, è stata proprio la signora Franca al secolo XIX, mi ha detto che ha una nonna in Marocco a cui ho molto legato, posso essere la sua sostituta a Genova, mio marito lassù, Fausto, sarebbe stato felice visto che era un grande sandoriano, Sabiri ha fatto amicizia con mio figlio dopo il Parigi di Verona, si era fatto promettere un gol nel derby e dopo aver mantenuto la parola Sabiri è venuto a salutare sia la nonna che il nipote, non è da tutti un gesto così carino, dice appunto la signora Franca, lo stesso giocatore in un'intervista al secolo XIX ha parlato del rapporto con la signora Franca, sono tornato a trovare Franca e dice lei è la mia nonna italiana a Genova, mi sento a casa, mi hanno appena regalato il simbolo della Samp con la bandiera del mio Marocco, quindi queste sono notizie importanti, mi ha visto anche per il fantacalcio perché di fatto sapere cosa fanno anche i giocatori fuori dal campo è importante, quindi questo sicuramente è un gesto importante di cui tenere in considerazione voi fantallenatori perché chiaramente dovete conoscere, non dico vita morte miracoli, ma comunque dovete essere ampiamente sul pezzo, su tutti i giocatori, quindi questo tema è molto molto importante. Detto questo, Sabiri come si è comportato nelle esperienze passate, in Serie B ha fatto 43 presenze, ha fatto 11 gol, ha fatto 4 assist, in Overliga ha fatto 30 presenze, 17 gol e 6 assist, con la Bundesliga A ha fatto 24 presenze, 4 gol, 1 assist, nella Regional Liga ha fatto 21 presenze, 12 gol, 6 assist, con la Germania Under 21 ha fatto 5 presenze e un gol, quindi è un giocatore abituato ad andare a bonus, è un giocatore importante anche per il futuro fantacalcio, quindi credo che sia da tenere attenzionato in grande, grande considerazione visto che appunto è un giocatore che si fa anche voler bene e questo può aiutare a crescere anche a livello di squadra e di team. Quindi attenzione a Sabiri per il prossimo anno, diritto di riscatto c'è, la Sampa e Salva, ci sarà credo una variazione a livello di proprietà per quanto riguarda la Sampdoria, con l'uscita definitiva di Ferrero, staremo a vedere appunto se c'è stato o meno in quelli di Genova, però sicuramente Sabiri sarà un po' l'elemento centrale per quanto riguarda la squadra sampdoriana e visto che appunto non ci sarà la sua concorrente rivale, il Genoa che appunto è andato in Serie B, la Sampa deve dimostrare sicuramente di sapere valere la categoria e puntare a qualcosa di più di una salvezza tirata un po' all'ultimo. Cosa fare dunque con Sabiri a Fantacalcio? Ci sono diverse opzioni, stiamo a valutare anche a livello di calciomercato se ci saranno delle variazioni, ma spero appunto di no, spero che appunto Sabiri resti alla Sampdoria, potenziale incursore del vostro Fantacalcio. Come detto una delle più belle sorprese, io ci farò una valutazione importante su di lui, diversificando con le varie tipologie di leghe. Il leghe 8, Sabiri lo punterà come quarto-quinto slot, spendendo al massimo 2%, quarto-quinto slot vuol dire che un giocatore da prendere a poco, magari un po' sottovalutato anche nelle chiamate, prendendolo a poco però potreste avere vantaggi di trovarvi un bel tesoretto e magari puoi utilizzarlo come armi di scambio dopo appunto le prime giornate. Il lega 10, quarto slot puro, massimo 3%, idem come sopra per leghe 8, Sabiri può essere fondamentale nella vostra leghe, il quarto slot a centrocampo è sempre molto molto utile, di fatto se va a flopare il terzo poi vi serve come ingresso e innesto per farlo diventare titolare, mentre in lega 12 credo che Sabiri possa essere proprio il limite tra il terzo e il quarto slot, spesa massima 4%, anche qua dico che se conferma quello fatto finora e conferma quello che ha fatto in passato, il terzo slot in lega 12 potrebbe essere meritato. Sapete che in lega dice che è complicato fare una squadra molto competitiva, di solito si prende un top, è bene che vada, un semi top e poi il terzo slot non dico che una scommessa ma un giocatore che deve essere un underdog per forze, quindi per questo motivo Sabiri ha proprio le sembianze di quello che può essere un underdog per il prossimo anno. Chiaramente come detto dobbiamo aspettare a livello societario, a livello di calciomercato cosa succederà in quello di Genova, con la sponda Sampdoria, come detto non ci sarà il Genova ma ci sarà lo Spezia come squadra Ligure, chiaramente la Sampdoria deve approfittare di questa sbandata del Genoa e cercare di portarsi a casa una bella soddisfazione per il prossimo anno, credo che appunto però ho sentito che ci sono già dei passi avanti per quanto riguarda la proprietà della Sampdoria, staremo a vedere se appunto saranno confermati o meno nelle prossime settimane e nei prossimi giorni. Io vi ricordo prima di chiudere delle notizze importanti per quanto riguarda il canale veterano, mettete like al video, fate passaparola, fate crescere il canale sponsorizzandolo con i vostri amici, con i vostri contatti, chiedendo ai vostri contatti di mettere l'iscrizione al canale, l'iscrizione è gratuita, non costa nulla, se invece volete supportare il veterano abbonandovi al canale, chiaramente questo darebbe a voi un sacco di possibilità, sono tre possibilità, tre di fatto regali con l'abbonamento. Uno, la guida strategica che ricordo è una guida fondamentale per dominare FantaCaccio, non è una guida statistica, ci saranno anche dei dati ma è prevalentemente una guida sui trucchi da tenere in ottica FantaCaccio a livello psicologico, a livello di trucchi anche da tenere durante l'asta, prima, durante e dopo l'asta. Poi c'è l'app di Magic Goal che per i abbonati avrà le funzionalità illimitate, vuol dire che ci saranno veramente tutto l'accesso possibile all'app di Magic Goal, domande riservate, domande premium, file premium, quindi veramente un sacco di opzioni e poi il terzo regalo sono i file di Excel del veterano che vi regalerò in maniera contestuale quando farete l'abbonamento. Quindi un grazie di cuore a tutti voi, vi aspetto presso il suo canale, un abbraccio e a presto da veterano. Ciao ragazzi!